con le immagini, guarda come stoppa bene, tutto perfetto e poi questo dribbling sempre a rientrare calcia rapidamente senza dare al tempo a Victor Valdez di spostarsi un pochino sulla destra per evitare questo tiro niente da fare, è mai troppo forte 66esimo gol di Arian Robben con la maglia del Bayern in 119 partite anche una buonissima media straordinario il calcio davvero perché è bastato un calcio